ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi secondo video dedicato alle collezioni natalizie oggi voglio parlarvi di essence che è un brand che a me piace tantissimo lo sapete e per natale ci sono delle cose molto molto allettanti me le sono scritte qua perché pur essendo una collezione con pochi prodotti comunque rischiavo di dimenticare qualcosa partiamo subito con la palette occhi sono nove ombretti con nuance calde dal bronzo al viola intenso io la trovo veramente una palette bellissima con dei colori stupendi che per le feste sicuramente possono andare bene per la realizzazione di make up di vario tipo dai più luminosi ai più naturali veramente molto molto bella la trovo davvero davvero carina poi avremo l'illuminante iridescente setoso con delle sfumature rosa quindi anche questo illuminante comunque mi sembra molto carino poi avremo un pennello per il viso qui la particolarità non è tanto il pennello insieme al packaging perché nel manico ha delle diciamo colorazioni tipicamente natalizie perché ha delle paillettes che vanno dal rosso al bianco all'argento quindi va a creare questo effetto natalizio e può essere anche una bella idea regalo poi sempre a tema natalizio avremo un balsamo labbra che è inserito all'interno di una pallina di natale quindi può anche essere appeso all'albero di natale perché no ed è comunque una cosa carina sempre come idea regalo magari mi sembra particolare un altro prodotto interessante che io non ho mai usato è lo spray corpo e capelli quello spray che va a dare quell'effetto luminosità quell'effetto brillantezza al corpo e ai capelli io sarei curiosa di provare una cosa del genere perché ne ho sempre sentito parlare ma poi non l'ho mai provato vorrei vedere se veramente dà questo effetto luminoso soprattutto sui capelli mi piacerebbe provarlo e chissà che quest'anno magari non sia la volta buona poi dedicato alle unghie avremo un kit per la nail art che ha dentro i classici stencil per andare a fare il disegno sull'unghia lo stampino tutto comunque lo corrente gli stickers e tutto quello che serve per creare delle nail art a tema natalizio sempre dedicato al natale avremo poi una bomba da bagno confezionata in modo tipicamente natalizio perché avrà anche la cartolina d'auguri quindi anche questa è una di quelle cose che magari come piccolo pensierino di natale magari una persona che conoscete meno può essere comunque apprezzata perché c'è la cartolina di natale c'è questa confezione con questa renna con la bomba da bagno che va a rappresentare il classico naso rosso della renna quindi insomma mi sembra simpatica originale questa è tutta la collezione di essence che come vedete è abbastanza piccola non ci sono tantissimi prodotti però devo dire che mi sembrano carini quelli che ci sono soprattutto la palette quella che vi ho fatto vedere all'inizio mi sta stuzzicando parecchio quindi chissà che magari in un altro video non la vediate proprio fisicamente qua comunque fatemi sapere nei commenti se avete intenzione di comprare qualcosa di questa collezione se in generale magari avete comprato qualcosa anche di altri brand che io sono sempre curiosa di saperlo vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme